E c'è stata una splendida testimonianza ad Ancona di tre campioni di sport e di vita. Scopriamo chi sono con Maria Francesca Alfonsi. È importante sì, perché quando ti raffordi la tua capacità e la tua forza di imparare con la velocità di agire e soltanto qualsiasi problema, quindi stai in grado di affrontare tutte le soluzioni di questo mondo. E questo non impide che tu abbia una disabilità, anzi il fatto che uno abbia una disabilità può dire un punto di partenza per affrontare tutte le soluzioni, quindi solo o soltanto tu la persona può scoprire se c'è che dentro di te. Campioni di vita, Oni Tapia, lanciatore di disco non vedente, medaglia d'argento ai mondiali parolimpici, Federica Mas per oncologa e atleta azzurra ai suoi 400 metri più veloci della sua malattia e Andrea Lucchetta, mito del volley, testimoni di vita davanti a tanti studenti, alla mole di Ancona, tappa della campagna nazionale su sport e disabilità. Crediamo di poter dare degli strumenti, degli spunti ai ragazzi per far capire questo, che la disabilità può essere comunque una parte della propria vita e non per questo renderla una parte così negativa e così ostacolante. Federica Mas però ha una patologia, io un'altra, è super Andrea, quindi sono tre forme di vita diversa e sono tre forme di vita diversa che aiutano, ti fanno vedere come la vita si può prendere anche in maniera diversa e dalle uno svolto quando abbiamo gli strumenti in mano, quindi tutto dipende di noi. Sono malato di una patologia incurabile, il sorriso. Il sorriso perché con il sorriso bisogna comunicare quanto sia bello, importante, dare un senso di appartenenza, laddove la vita ti crea delle difficoltà, beh, lo sport ti può rimettere in pista. Le Paralimpiadi ci sarà Oney che lancerà il disco. Che disco lanci alle Paralimpiadi a Tokyo? Che disco lancerò? Il disco del più forte del buio e anche dei campioni di vita.